muoviti, bravo muoviti, muoviti sulle gambe, abbassa il mento, bravo muoviti, così, togli e rientra, vai, 1-2 schiva, attento al rientro, direto al tronco e perno, rideciso, adesso incrociato, lavora, lavora lì, bravo, 2 colpi, 1-2 molto veloci, 1-2 passi indietro, destro, 1-2 passi indietro, destro, poi 1-2 schivata circolare, capito? I primi 2 colpi non entrano mai, sempre i successivi, 1-2 da chitto, schivata e rientra, ok? Vuole tirare dura lui Massimo, vuole tirare forte, tira forte anche tu, 1-2 passo indietro, dai 1-2 passo indietro, dai così, bravo, dai, ti sta facendo le finte, dai, deciso, deciso, 1-2 montante sinistro, dai Massimo, toccalo, devi fare i punti, non aver paura, Massimo, abbassa il mento, toccalo, toccalo, 1-2 schivata circolare, dai Massimo, è finita, 30 secondi Massimo, 30, 30 secondi Massimo, no, 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 deciso Massimo, lavora, 1-2, Massimo, ti muovi, deciso, 1-2 gancio, 1-2 gancio forte, forza si copre, lavora sotto, dai Massimo, dai, lavora, dai Massimo, tre colpi, quattro colpi, dai Massimo, dai Massimo, stai facendo un cazzo, la storia, muoviti.